Buongiorno Davide, bentornato. Buongiorno, eccoci qua, bentrovati. Buongiorno Davide, allora oggi partiamo dall'apertura del Corriere della Sera. La Nato avverte Cina e Russia. Biden minaccia la sicurezza globale, la premia d'Italiano Draghi, ora l'alleanza è più forte di prima. Tema che ritroviamo anche in prima sul giornale, dove ampio spazio è dedicato alla scomparsa di ieri di Livio Caputo. Aveva assunto la direzione ad interim del giornale dopo il passaggio di Alessandro Sallusti a Libero. Si è spento ieri a 87 anni. Stesso titolo, sullo stesso argomento, come detto, Nato più forte, così Draghi cancella Trump. A te Davide. Dopo il vertice del G7, ieri a Bruxelles si è riunita la Nato. Era un momento particolare per... Davide ti sentiamo... naturalmente perché... Ok, sì, dovremmo esserci, dovremmo esserci. Se ti abbiamo perso per un... Procedura di assestamento. Nella Nato, la Nato era una procedura trincera. Allora, dunque, dopo l'incontro del G7, la Nato, l'Atlantica è stato un momento molto particolari per l'Italia. Ieri il Presidente del Consiglio Italiano, Mario Draghi, ha parlato di una Unione Europea più forte e rende l'Alleanza Atlantica. È nato più forte e ha parlato di un'alleanza... Non riusciamo a sentirti Davide, mi sa che c'è proprio qualcosa che non va. Adesso chiediamo ai nostri registi... Di intervenire in qualche modo. Intervenire, intanto... Andiamo avanti a leggere le altre prime, Enrico. Esatto, esatto. Come detto, la prima del Corriere l'abbiamo letta, il titolo di apertura, ma ha ampio spazio dedicato anche alla questione vaccini. Dai governatori la richiesta di dosi Pfizer e Moderna, poi ne parliamo, due terzi del paese in zona bianca. È efficace il richiamo con vaccini diversi? Si chiede Margherita De Bac oggi sul Corriere della Sera e naturalmente domande e risposte affidate agli esperti. Andiamo sulla stampa. Speranza Italia bianca grazie ai vaccini, questa è la scelta per l'apertura, tutti i farmaci sono sicuri, anche in Germania e Francia si fa il mix, le regioni si adegueranno. E poi andiamo, ci sono altre notizie naturalmente, anche in questo caso tra Biden e Putin è subito scontro e Draghi chiede unità sulla Libia e proprio a questo stava facendo riferimento poco fa Davide. Davide, riproviamoci, vai. Eccoci qua, allora dico, ieri è stato un incontro molto importante, quella dell'alleanza atlantica. Draghi ha parlato di una, che l'Unione Europea più forte rende la Nato, l'alleanza atlantica più forte, ha parlato dell'alleanza più forte della storia come l'alleanza atlantica e tutto questo rende più sicura e più forte l'Italia. Cioè finalmente stiamo parlando di una sovranità che non è un sovranismo, un gargarismo sovranista per giunta che ci aveva portato a firmare la via della seta e a sostenere che stavamo più a casa a Mosca che non a Bruxelles. Quindi era la svendita della sovranità italiana. Questa parentesi è chiusa, è viva, meno male. Tra l'altro questo aiuta, ecco la delicatezza dell'incontro di ieri, a parlare della Libia e degli equilibri in Libia, non solo come barconi o pozzi di petrolio, ma come un tema e un equilibrio geopolitico globale. Il che significa porre un limite all'espansione dei turchi. Ieri all'incontro di Bruxelles, Nato, erano presenti ovviamente tutti gli alleati della Nato e quindi erano presenti l'Italia, ma anche la Turchia. Non c'è stato un bilaterale fra i due paesi, ma di sicuro gli Stati Uniti, con il presidente Biden, hanno su questo preso le parti dell'Italia. Mi pare un successo non da poco. Questo sì che è un punto a favore dell'Italia. E andiamo in realtà su due quotidiani diversi, la stampa e la Repubblica per un unico tema, sempre molto di attualità, il lavoro e l'occupazione. A pagina 16 della stampa, che come abbiamo già detto apre con speranza, che dice l'Italia è bianca grazie ai vaccini, questa è l'apertura, però a pagina 16 appunto si riapre il concorsone per il Sud, riammessi 70.000 candidati. Però protestano i neolaureati, così per noi è anche inutile provarci. Dopodiché il tema simile anche sulla prima di Repubblica, concorso Sud riaperte le ammissioni e un altro approfondimento sul lavoro. La carica dei precari spinge la ripresa. Da gennaio sono stati assunti in 200.000, insomma un po' varie facce della questione occupazione. Sì, allora qui il problema qual è? La vera domanda è perché il 35% medio in Italia, ma ci sono regioni in cui il 50% di quelli che erano stati ammessi a questo concorso non si sono presentati? Cioè in fondo sei tu che hai fatto la domanda, mica ti siamo venuti, mica ti ha trovato il precetto militare. Si vedrà questa cosa, questa cosa degli universitari che dicono, beh ma allora noi siamo svantaggiati. Beh no, a quel punto siamo così, loro rientrano nel 35%, sono prevalentemente loro o altri. Perché è evidente che il 65% che è rimasto, semmai è agevolato se la mettiamo su questo piano, ci c'è meno concorrenza. Il punto qual è? Il punto è che questo concorso è esplicitamente un concorso per un contratto a termine di 36 mesi. Cioè non è l'assunzione, non è il posto fisso alla Checco Zalone per intendersi, no? Cioè il posto a vita, è per 36 mesi. Allora questo rende meno attrattivo il concorso, ma è un errore grosso. Ragazzi non commettete questo errore, è un errore grosso. Perché entrare, fare un'esperienza, avere delle cose che hai saputo fare, averle imparate, nella vita è valore. Quello lì serve, sia per eventuali nuovi concorsi, perché naturalmente diciamo guadagni delle precedenze in graduatori. Ma al di là di questo, ma proprio nel mercato, nella realtà, nel lavoro quotidiano, la grande differenza è essere dentro o fuori il mercato del lavoro. Il dramma è essere fuori, essere dentro con un contratto a sei mesi è una cosa importante. E di fatto, e di fatti, se guardatevi a guardare, questo che è quello che pubblica Repubblica, ma la fonte è l'Istat, sono dati ufficiali, nel grosso della ripartenza italiana, che per ora fa numeri interessanti, quindi speriamo che si confermi così, i contratti part-time, o cosiddetti contratti a termine, stanno riguadagnando la posizione che avevano nel 2018, quindi, diciamo, ben prima del covid. È un male? Perché invece bisognerebbe tutti avere la sicurezza a vita. Ma che cavolo è sta sicurezza a vita? L'importante è riuscire a lavorare e a fare qualcosa. La dignità consiste nel lavorare, non consiste nell'avere qualche cosa per consumare. E di lavoro si parla anche sul quotidiano La Ragione, che torna in edicola oggi, per una nuova settimana, con tanti spunti, tante riflessioni, a pagina 4, un dibattito sbagliato, il feticcio del blocco dei licenziamenti. C'è anche un pezzo molto interessante di Enzo Bucchioni, dedicato agli europei, che RTL 125 sta seguendo da vicino, e dedicato soprattutto a quell'immagine, quell'istantanea che poi, insomma, tutti ricorderemo di questo europeo, il dramma di Eriksen che si accascia a terra, Christian l'europeo sotto gli occhi del mondo, un episodio, scrive Bucchioni, che ricorda la potenza evocativa dello sport più popolare del mondo. La Ragione, in edicola, 50 centesimi, l'anteprima tutte le sere, gratuita sulla ragione.eu. A pagina 31 del Corriere della Sera si parla invece di plastica. Trovato l'accordo con l'Unione Europea, il ministro della Transizione Ecologica, Cingolani, la direttiva monouso rivista su compostabile e carta plastificata. A te, Davide. Come era ovvio, come era scontato, ci saremmo potuti risparmiare questa ennesima, inutilissima, piagnucolata. Non è stata cambiata nessuna direttiva. La direttiva è stata votata all'unanimità, la direttiva per limitare l'uso delle plastiche che poi si buttano in mare, che si buttano ovunque. E vorrei capire chi è che è in grado di riuscire a sostenere la tesi oppoce. No, aumentiamole. Ma che razza di ragionamento è? Siccome l'Italia ha il 35% di questo mercato, che vuol dire che gli altri europei hanno il 65%, non è che ce l'hanno con noi perché ce l'hanno al 35%, naturalmente bisogna fare le cose con raziocinio. E di fatti la questione è stata risolta dal ministro Cingolani e dal commissario Timmermans. Semplicemente è la questione del regolamento, del passaggio, cioè del peso. Per esempio, la questione è che se un bicchiere di carta ha un 10% di plastica, è tutta plastica? No, è plastica per il 10%, è così. Ma sono cose tecniche. Ecco, il punto qual è? Che quelli che hanno messo in scena la inutile piagnucolata, adesso si squagliano, mica vengono qua a dire ebbè avete visto si è risolta... No, rimane nella mente, nell'eco dell'opinione pubblica la direttiva europea era contro l'Italia. Vabbè, buonanotte. Criptovalute, troviamo il titolo di apertura del Sole 24 Ore proprio su questo. Consob minaccia criptovalute. Il presidente Savona sono un fiume in piene, servono interventi e nuove norme. Per un tweet di Musk, il bitcoin torna sopra la soglia dei 40 mila dollari. Guarda, non saranno passate due settimane che per un tweet a rovescio in realtà erano poi calati, no? Cose così. C'è anche sulla stampa allarme Consob sulla bolla dei bitcoin migliaia di monete fuori dalle regole. Ci fai un po' un quadro, Davide, sulla questione criptovalute e bitcoin? Guardate, questa è una cosa che siccome ci si esprime per titoli, poi alla fine si fa confusione. Mettiamole in maniera il più semplice possibile. Le criptovalute sono una cosa seria. Sono una cosa seria e prenderanno sempre più piede perché si basano su un sistema di autenticazione delle transazioni, la blockchain, che è molto, molto efficiente. Ci faremo molte altre cose in un futuro presente con blockchain. Le criptovalute sono una cosa seria. Il bitcoin non lo è una cosa seria. Dice, ma non è la stessa cosa? No, questo è il punto. Non è la stessa cosa. Una moneta, ci insegnano, che una moneta deve essere almeno tre cose. Deve essere un sistema di transazioni. Tu mi dai una caramella, io ti do dei soldi. Perfetto. Funziona così anche il bitcoin? Sì. Seconda cosa, deve essere un elemento di contabilità. quanti sesterzi viene al tuo pacchetto di caramelle? Così come lo dici a me, lo dici anche a Enrico, perché ci serve per capire quanto vale sto pacchetto di caramelle. Funziona così anche per i bitcoin? Sì. Terzo elemento. La moneta deve essere anche un posto, una cosa con la quale tu conservi la ricchezza. Cioè, ho guadagnato mille sesterzi, ne conservo ottocento per l'avvenire. E questo anche il bitcoin. Ma manco per idea. Basta che Musk dica lo prendo, non lo prendo, e vale la metà. È una roba in cui nessuno sanno di mente, almeno che non ci abbia una voglia di giocare alla roulette, di scommettere, per farci quello che vuole. Ma certamente non è un posto dove conservi la ricchezza. Diverso invece sono le transazioni elettroniche anche in criptovalute amministrate da banche. E questo, dice il presidente della COS, per il professor Savona, bisognerà in qualche modo regolamentarla. Ha perfettamente ragione. Naturalmente queste sono regolamentazioni internazionali e soprattutto per lo spazio bancario europeo. Sono regolamentazioni europee. Chissà se si ricorda il professor Savona di essersi battuto contro questa roba fino all'altro ieri. Allora Davide, come anticipato, ci occupiamo di vaccini, ci fa l'apertura oggi Repubblica. Il mix dà più immunità. A parlare è l'ex direttore dell'EMA, Guidorasi, che esclude di fatto i rischi nella seconda dose diversa della prima e anzi ne indica i vantaggi. E poi c'è il ministro della Salute e Speranza che di nuovo ordina alle regioni di allinearsi, di andare, insomma, di procedere nello stesso modo. Sì, purtroppo è stato fatto un danno notevole in questi giorni dovuti al desiderio di tutti di parlare. Lo vedo anche dalle domande che qualche ascoltatore cortesemente indirizza. Ma allora non si può prendere questo vaccino al di sotto o al di sopra di una determinata età? Tutti i vaccini che sono attualmente in circolazione in Italia, in Europa, nel mondo occidentale sono stati tutti autorizzati per tutte le fasce d'età. Punto. Cioè questa è l'autorizzazione. Poi dopo ci sono diciamo così le raccomandazioni di utilizzo ma questo riguarda anche se io sono malato se ho una malattia e sto prendendo altri farmaci ma ci parlerò col mio medico con chi mi sta seguendo e dico guarda dopo domani vado a vaccinarmi. Poi c'è l'anamnesi cioè quello che devi raccontare lì prima di vaccinarti e devi essere abbastanza chiaro in queste cose e ripeto se hai una malattia di qualche significato se hai il raffreddore portati il fazzoletto ma se voglio dire se hai una malattia di una qualche importanza informati anche con il tuo medico è tutto a posto cioè non è successo niente di tragico anche gli incidenti che purtroppo hanno portato alla morte qui ancora è da stabilirsi esattamente come sono andate le cose posto ciò è evidente che se io cittadino normale come tutti very normal citizen sento dire a uno il cocktail ammazza quell'altro quel vaccino qua non lo pratichiamo più quell'altro dice uniformatevi agli ordini e ne ho un senso di caos che siccome mi mettono dentro adesso si dice inoculano fanno iniezione dentro una sostanza che è me strana mi viene il dubbio mi viene anche ma è legittimo ecco quindi l'autorità deve essere anche autorevole e in questi ultimi tre giorni hanno fatto di tutto per distruggere l'autorevolezza pubblica vedo che il numero delle vaccinazioni continua a essere imponente che dimostra che la gente normale ha la testa sul collo al contrario di altri mantiene il buon senso grazie grazie davvero a Davide Giacalone per la chiacchierata e la segna stampa anche di questa mattina le sue riflessioni che tornano come sempre domani intorno alle 7.10 buona giornata buon lavoro grazie a voi e buona radiovisione a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti